Ho un figlio, non ne sapevo niente. Dove sono finite le altre lettere di Glouge? Lo voglio morto entro due giorni. Tradittore! Per il ciclo Tour de France Stanno cercando un brigante che ha rubato un bambino. La figlia di Nevers è viva. Io non sono vostro padre, Aurora, ma sarebbe troppo pericoloso portarla qui. Il Cavaliere di Lagardère, lunedì alle 21, con Iris.